Start, 2, 1, initial mission and liftoff! Non ha minimamente a che fare con questo gioco, a che cosa assomiglia? Beh a un'avventura action, gioco di ruolo perché potete comunque scegliere il vostro equipaggiamento, no però potete scegliere la vostra abilità e i vostri talenti con un pizzico di souls like, non mi piace molto questo termine però insomma tutto si avvicina a quel genere lì. Ve lo faccio vedere rapidamente, è un gioco che inganna molto perché all'inizio se lo giocate la prima mezz'ora mi sembra dare un aspetto un po' così, un po' piatto dell'avventura anche se in realtà così non è. Allora a parte il vestito che ricorda molto quello di Horizon, Zero Dawn o Forbidden West insomma come volete, il classico gioco Sony della PS, questo è un gioco diversissimo. Ovvio si ispira ai souls per quanto riguarda il combattimento ma a livello dei souls non è, nel senso che tecnicamente è leggermente inferiore, è un pochino più legnoso, gira bene, le animazioni sono belle. E ci troviamo insomma, adesso vi faccio vedere il profilo, vedete, ci troviamo, vabbè la storia è molto interessante perché il nostro padre non ci aveva preso con noi in una spedizione, è andato e tempo dopo noi ci risvegliamo che dobbiamo andare a cercarlo. Insomma arriviamo in questa città dove scopriamo che tutti sono stati maledetti con questa maledizione e non possono lasciare la città, insomma queste sono le premesse. Noi abbiamo spada e scudo e bracciali ma le armi in realtà le abbiamo tutte sin dall'inizio, c'è l'arma primaria, l'arma secondaria con il pad quindi con la X, parlo del pad dell'Xbox, con la X facciamo l'attacco primario quindi la spada, con LB l'attacco secondario della spada e di conseguenza Y i bracciali e il grilletto sinistro l'attacco secondario dei bracciali. Ma possiamo in qualsiasi momento shiftare, poi vedete che sotto l'arma c'è un PU, quello è il potenziamento. Poi abbiamo i ciondoli, i ciondoli sono, quanto ho visto, l'unico oggetto che possiamo craftare usando delle risorse che ci danno poi comunque delle resistenze. Questi ciondoli, io adesso equipaggio questo, aumenta i punti vita massimi, mettiamolo. Ok l'abbiamo equipaggiato e qua abbiamo gli oggetti rapidi. Diciamo che questo è l'oggetto che ci consente di tornare rapidamente all'inizio, all'hub, ma potremmo anche mettere il bagliore. Ma il bagliore non lo voglio usare, questo è polvere del ricordo, 10% polvere di stelle che sono un po' le anime che si raccolgono uccidendo mostri, ma io voglio usare questo perché vedete che io premendo questo lo attivo, schiocco le dita, le animazioni sono molto belle. Ok, andiamo a parlare con la volpe. Il gioco è doppiato per metà nel senso che i dialoghi principali hanno un doppiaggio inglese, sottotitoli in italiano, come potete vedere invece le frasi di discussione di approfondimento sono tutte solo scritte. Questo è un fabbro, Vulcain la fabbro, e vedete che qua possiamo andare a utilizzarla per creare dei ciondoli e quindi creare delle resistenze, diciamo, fisiche, astrali, fuoco, ghiaccio, tuono, e spendendo dei frammenti degli oggetti che troviamo durante l'avventura, oltre alla spesa di quei cristalli che vedete in alto a destra, ne ho 5657, che sono un po' quelle che sono le anime. Il miglioramento delle armi, possiamo migliorare la spada e lo scudo spendendo minerali di stellite, ne ho 2, quindi posso usarli, miglioro la spada, lo facciamo subito. So, 750, sì, più 750 di cristalli, più i frammenti di stellite, cosa che mi serve su tutti, quindi al momento posso farlo solo alla spada e lo scudo, ma ora abbiamo la spada e lo scudo a livello 1. Torno qua, andiamo a vedere, poi vi faccio vedere anche un'altra cosa, molto interessante, spada e scudo 1. Poi, abbiamo le nostre capacità che si dividono in 4, i punti attributo, possiamo andare a potenziare la vita piuttosto che i punti magici, che servono per le abilità magiche, la costituzione sono i punti ferita, io continuo con la forza, confermo, tenendo premuto. I punti talento, invece, sono veramente molto particolari, perché all'inizio voi vedete solo questo, e vi fa pensare, niente di che, in realtà, potete ruotare, ci sono tutti i vari rami, e a quanto ho visto, è possibile completare in tutto il corso dell'avventura, che giocandolo, compresi gli extras, arrivano poco sotto le 30 ore, potete completarne massimo un paio, insomma, non di più. Però, c'è, a quanto ho sentito, il new game plus, cioè potete ricominciare la partita e continuare a potenziare il vostro personaggio. Potremmo andare a vedere colpo di scudo, vedete che questa è un'abilità, una volta che arrivate a prenderlo, prendete lo scudo boomerang. Qua in fondo, invece, abbiamo la furia difendenti, quindi questo usa un po' i pugnali. Questo giudizio, usare il bastone, questo è, non capisco, scudo boomerang, ok, no, è sempre quello, e voglio iniziare ad ascendere da qui, quindi prendo questa abilità qui, ne ho quattro di punti, prendo questo, raccia fissa, stabilità, vedete che posso andare giù, colpo di scudo, e poi posso andare anche da questa, concentrazione, passi decisi, no, qua non mi piace, voglio vedere se c'è qualcosa di più interessante. concentrazione, no, mutamento d'arma, i bracciali si possono ricaricare per trasformare la spada magica, ok, dai, lo prendo, li prendo un po' a caso, così per farveli vedere, abbiamo zero punti, ma tra poco potremo prendere questo, al prossimo livello, le fiamme diffuse, applichi un fuoco e va bene, li ho presi un po' a caso, ma vabbè, miniera rompi magia, che praticamente la mina magica dei bracciali riduce la difesa magica, sì, perché con i bracciali noi possiamo cospargere il terreno di mine. Conferiamo l'apprendimento, torniamo indietro, e vi faccio vedere le ultime cose, l'inventario ovviamente, dove potete andare a interagire con alcuni oggetti, usarli direttamente da qui senza equipaggiarli nella slot veloce. Abbiamo il diario, il diario è molto bello perché ci fa vedere dove siamo, le varie zone, ci fa vedere il riassunto, con la possibilità poi di vedere anche il testo, ma non ve lo faccio vedere per non spoilerarvi la storia, vedete? E poi abbiamo l'archivio con i vari documenti che noi troviamo in giro, ce ne sono tanti, gli oggetti, le pietre eco, le pietre eco sono importanti perché ci consentono di risalire a quello che è successo nel passato, quindi sono degli spiriti che parlano, insomma, e noi riviviamo cosa è successo nel passato, ed è l'espediente, piuttosto che usare i flashback, usano queste figure ammantate che, di magia, insomma, che parlano. Ora abbiamo, vedete la tavola della guerra, e questa è una mappa, e ci fa vedere dove ci troviamo, dove dobbiamo andare, dobbiamo andare nelle strade nere, noi abbiamo questo hub che va a comunicare con tutte le zone iniziali, quindi noi adesso dovremmo andare di qui e affrontare le strade nere. Vedete che qua non è tradotto, ovviamente loro non si fidano di noi perché comunque ci hanno catturato, hanno detto, ah, ok, tu sei la figlia di quello lì, quel tizio lì che è arrivato prima con questa compagnia, in questa missione, è stato plagiato da un, quello che sembra essere, poi chi lo sa, il cattivo dell'avventura, e, adesso scusate, ma, ok, il cattivo dell'avventura, quindi, insomma, dobbiamo capire che cosa, se ha veramente plagiato del tutto il nostro padre o meno. Il gioco è ricco di segreti, in questo caso abbiamo preso schegge di eterite, a volte, una volta ho trovato un muro mezzo rotto e un martello vicino, ho colpito e ho distrutto il muro e dentro c'erano delle pozioni. Allora, la cosa importante da sapere, allora, non c'è, a quanto ho visto, il salto, ma la capriola, e non si ricaricano, ovviamente, le fiaschette dormendo. Le fiaschette si recuperano esplorando, lutando, ma, quando noi ci riposiamo a un, li chiamo falò, ma in realtà sono degli altari, azzurri, pieni di magia, i nemici si rigenerano e uccidere i nemici è l'unico modo di fare esperienza, che è quella barra che vedete sopra, in basso a sinistra, sopra la barra della vita, sotto, invece, la stamina, quindi abbiamo la corsa e, ovviamente, le azioni. Quindi potete grindare, quindi rigenerate i nemici e continuate a combattere ma alla salita di livello. E ha creatuto qualcosa il magazzino di Quintus e le strade nere, Dottor Maier. Ok, continuiamo per le strade nere. Il gioco ha anche delle scelte multiple che potrete fare nel corso dell'avventura, ora ce n'è data una, possiamo tornare indietro e avvertire l'altizia che ci ha dato la missione e non andare avanti. Scusatemi, ho perso... Ok. Ho perso un po' di vita, passando di lì, ma... non lo so. Le ambientazioni sono, ovviamente, come si nota, di chiaro stile greco. Ecco, questo è uno degli altari che va a rigenerare i nemici, però posso anche farlo, ma servono anche, non come teletrasporto da uno all'altro, ma come teletrasporto d'emergenza o checkpoint. Ora siamo arrivati alle strade nere, che è una delle prime location che andremo a esplorare. Questi sono i bassi fondi. l'ambientazione è molto bella, devo dire. Vabbè, non si può saltare, ma, come dicevo, potete poi ancorare i nemici, poi a breve ve lo farò vedere. Adesso vi faccio vedere, vedete, ho l'attacco principale, l'attacco secondario, con lo scudo, poi l'attacco secondario, quindi usare i bracciali, che ho equipaggiato, e la mina. La mina che è stata potenziata, e quindi se un nemico ci finisce sopra, oltre a subire il danno, subirà anche un danno alle sue resistenze. Ci chiede delle polvere di stelle, perché sono maledetti tutti qua in città. Ti prego, sono senza una bar, non vuole darmi ne altre. Peggio per te, non riuscirai a scappare stavolta, vabbè, ci penso io. Non è semplicissimo il combattimento, perché se l'ho definito un soulslike, vuol dire che non è proprio niente, bisogna fare attenzione quando si combatte, perché la morte è dietro l'angolo. Quindi non è il classico action picchia picchia, un po' come Kingdom of Amalur, o giochi del genere, dove si combatte sempre così, in terza persona, ma alla leggera. Qui è un po' piuttosto la situazione. Vedete, posso targettare. Io adesso voglio piazzare la mina. Piazzo una mina qui. Lui arriva. Vieni, vieni. Vedete, come vi ho detto, non bisogna... Uh, lui perde anche l'equilibrio. Poi prendiamo la pozione. Pozione, sappiate che le avevo finite tutte al primo boss, quindi... Ok, non è andato. Posso usare... Vedete, in basso a destra c'è una barra blu. Posso, premendo RB, scegliere questa abilità che sblocco con i talenti, che mi fa la super mossa. Molto, 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 molto interessante. La cosa che ci dimentichiamo sempre di fare sarà a correre, quando sfidate i nemici, perché farete un po' la souls, ma qua, rispetto a un Elden Ring, non corre molto di più. Ecco, c'è una... Modulo di registrazione per schiavi. Schiavi coloro che desiderano diventarlo per servire nei bazar, devono registrarsi. Candidatore, partite fino all'inizio del prossimo mese. Ok. E questo, invece? Vabbè. Sembra uno di quei cosi e di Diablo che scappano con il... con il bottino. Però voglio provare a fare il cattivo così e vedere che cosa succede. Ok, ha mollato qualcosa. Ed esire stella del mattino. Oggetto importante. Fantastico. Andiamo a vedere subito che cos'è. Aspettate che ho sbagliato. Inventario. Utilizzabile. Allora, conferisce permanentemente un punto attegguto bonus. Ottimo. Non la prendo subito. E posso andare adesso a distribuirlo, cosa che faremo dopo. È un peccato che non si salti perché potrebbe dare un po' così l'impressione di più libertà, di maggior libertà. No vabbè. Il tasto che presumibilmente uno si aspetta essere del salto è quello poi dell'interazione con l'ambiente che gli permette di scavalcare. Adesso vorrei tornare su se è possibile. No, non mi lascio. Ci sarà una scaletta, immagino. Sì, si torna sotto qua. Ok. Continuiamo. Siamo nei bassi fondi, quindi si continua ad esplorare. Ovviamente è inutile dire che ogni cosa che si può distruggere, perché no? Però questi non si possono distruggere. In compenso ho trovato delle pozioni... Uh, mi stanno colpendo da qualche parte. È su lì. Su lì e per uccidere quello dovrò salire lì. Quindi saliamo da qui. Sono un po' raffreddato, quindi c'ho un po' di problemi a parlare per lunghi periodi. Adesso non si può salire ulteriormente da qui, però potremmo prendere il bastone che mi dà l'attacco a distanza. Quindi io targetto lui e faccio l'attacco secondario. Che poi attaccando più volte mi fa la combo, ma non gli arriva il colpo. No, è ben protetto. Mannaggia lui. Vabbè, andiamo avanti. C'è qualcosa scritto qui? No? Non sembra neanche distruttibile, quindi... Andiamo avanti. Questo è molto cattivo. Invece la modalità secondaria è quella che ci fa mirare, così. Una volta che sbloccheremo anche questa quest, e le quest le vedete in alto a sinistra, sbloccheremo nel nostro ab iniziale anche il mercante. Beh, siamo... Potevamo pensare effettivamente di potenziare questo, ma... Nel caso in cui muori, sì, io perderei le anime, a quanto ho visto, e dovrei ricominciare dal checkpoint. C'è un'altra scritta. Per il diritto all'uguaglianza tutti possono usare la stellite. Questo è un futuro migliore. Ogni cittadino di Alphes dovrebbe avere il diritto di usare la stellite. Volevamo assicurarci che vengono costruiti i servizi pubblici. Ok. E questo ci aiuta a capire meglio la storia. Questo non lo posso usare, ma perché? No, posso usarlo. Un ricordo. Ecco, questi sono i ricordi, le pietre, diciamo, dei ricordi. Vediamolo. Un ricordo. molto interessante lui è Barad che dovrebbe essere il cattivo quindi la città è messa in questa situazione hanno bisogno di questa sostanza da quello che ho capito non possono neanche morire vivono da mille anni in questa città senza poter uscire sono praticamente immortali ma impregionati da quello che ho capito ci sono due strade adesso vabbè salto il dialogo ok si può scendere o si può salire io provo a salire ci sarà il tizio di prima scusi ah mi scusi vedete che non è il massimo della reattività tecnicamente bisogna ma non è un difetto è che bisogna essere bisogna avere il tempismo ho finito la stamina però alla fine livello 6 molto bene ho acquisito tutta la vita qua si entra cioè è divertente come esplorazione non sarà un capolavoro ma è divertente magazzino di quintus parlavano di questo posto parlavano di questo magazzino vediamo un po' vediamo un po' ecco mi sono incastrato porca caccia quando mi incastrano diventa un gran casino bevo la pozza vedete che scusate ma adesso corro fuori e mi riorganizzo bisogna giocare con le regole del gioco cioè il gioco è così non è diciamo così a livello tecnico fluido ci si gestisce di conseguenza come ho detto non è un difetto cioè ci si abitua io devo ancora abituarmi ok abbiamo salvato quintus però una pozzoncina non me la leva nessuno mi salvato la vita sarà per sempre indebito con te mi mandano i seguaci vogliono che tu mantenga la parola data dicendomi dove si trova la pietra traslante ti mandano i seguaci sono fatta aiutare da una straniera è bizzarra raccontami tutto gli chiedo dove si trova la pietra confermo questo è adorato come dialogo quindi magari è fondamentale lo trovo la situazione cambiata gli ascia da guerra hanno saputo che qualcuno cerca la pietra traslante così l'hanno spostata dal loro deposito nella loro fortezza non puoi semplicemente piombare lì ti preoccupi troppo gli chiedo anche che piano ha allora capisco perché la signora ti ha scelta sei una dura dovremmo aiutarci più spesso la signora mi ha promesso che una volta che ti avrà dato informazioni sulla pietra traslante potrai entrare e uscire liberamente dal rifugio va bene è un accordo che abbiamo mostrato in privato va bene tu va pure avanti pieno di nascondigli qui intorno questo rende tutto più difficile ti aiuterò nella missione e vedete che queste sono tutte tutte frasi che non hanno doppiaggio e sono tutte quelle di dialogo supplementare che vi permettono di approfondire il background insomma e vi potete informare su cosa state facendo su quello che è la vita all'interno della città e cose varie mi dà un regalo elemento incantite puoi cambiare gli elementi dei tuoi attacchi con l'incantite elementare ogni nemico ha un elemento in particolare al quale è più vulnerabile ok sì in effetti un'altra cosa che comunque dà spessore dà profondità al gioco è il fatto di di avere appunto le resistenze elementali che ci può cambiare diciamo gli scontri stavo per tornare indietro in realtà dovevo andare di qua e abbiamo trovato altri ci sono delle scritte e qua possiamo curarci rigenerando tutti i nemici precedenti però siamo arrivati comunque a buon punto vedete qua possiamo interagire abbandonare o riposarci ci riposiamo recuperiamo la vita ma al momento solo quella però comunque avevamo 6600 abbiamo fatto quasi mille di quei cristalli e ora si va avanti ok poi ci sono gli scontri con i boss e sin dai primi scontri gli scontri sono tosti tra l'altro all'inizio avete subito un boss da fare appena iniziate l'avventura ma se per caso sbagliate strada finite direttamente un mini boss quindi vabbè vostra cura poi andarci a combattere vediamo un po' se riesco a colpire da qui bastione alla città interna si lo sto prendendo adesso da lì ottimo molto bene possiamo possiamo anche fare così eliminiamo quello ecco vedete in questo caso io sono ferito bevo la pozza pozioni che non sono mai abbastanza ah e ovviamente cosa molto particolare questo gioco non funziona con la logica dei souls della rotolata schiva qualsiasi danno non è assolutamente così adesso finisco molto male così vedremo anche come funziona la morte ok sono morto così c'è l'animazione della prima della prima morte e vediamo magazzino di quintus siamo ripartiti da qui quindi abbiamo no le nostre anime le abbiamo le abbiamo perse ma non tutte però ecco questo è questo è importante lì in fondo no non c'è neanche il corpo da recuperare i nemici morti sono tornati in vita però abbiamo ancora tutte le nostre pozioni quindi bene bene così scendiamo con calma ma ma qua possiamo salire no possiamo colpire però forse qui e far scendere la scala me la dà come evidenziata vedete che o forse facendo così vedete che me la dava evidenziata ma no vabbè andiamo avanti con calma senza cadere di sotto vediamo se riusciamo a essere troppo lontani sei quasi finito di sotto si poi una delle critiche che ho letto riguardo il gioco è l'intelligenza artificiale che non è delle migliori vabbè tanto lui non può più tornare su quindi quindi pensiamo a stidura e poi attacchiamo gli altri ok vedete che adesso sto imparando a gestirmi la leniosità diciamo dei miei incantesimi cioè devo finire l'animazione e poi rotolare ok finito anche questo eccolo lì il socio no però devo finire tutti se no io prima sono morto lì vediamo se non c'è neanche mano o roba del genere quindi voglio però attaccare il tizio con l'attacco speciale adesso quindi uccido questo e vado giù e lo attacco con quello salve così e così ma dove è finito sì non c'è il furtivo ma va bene uuu ho trovato roba lastra d'argento che è tutta roba utile per il per il crafting abbiamo una porta però voglio guardare cosa c'è di là prima prima di entrare qua perché sono tutte cose particolari queste quindi bisogna entrare di qua dove andava il tipo prima uh siamo usciti all'esterno siamo tornati nei bassi fondi poi in realtà non c'è una mappa non c'è nulla quindi uh c'è qualcosa di là però sono finito sotto bellissima la mappa è molto bella almeno questa ambientazione un po' da bassi fondi appunto non è assolutamente male santuario della santa bene là c'è un ricordo vedete ricorda si immortals fenix rising e anche la cultura greca però non ha niente a fare adesso io mi interrogo qui perché voglio crearvi un po' di hype il gioco credo di avervelo fatto vedere così a grandi linee può piacere a tanti dipende se state cercando un gioco di ruolo d'azione ecco non vi ho fatto vedere una cosa che magari avete aspettato per vederla non ve l'ho fatta vedere in posizione dell'abilità possiamo andare a sbloccarle è tipo quella mega mossa che fate e l'unione è legata a un'arma oltre a quelle centrali che sono quelle diciamo universali le impostazioni invece delle specialità ci permette di attivare e disattivare le capacità speciali magari legate a dei talenti che abbiamo sbloccato sono tutti comunque legati a un'arma a quelli che abbiamo sbloccato appunto nell'albero dei punti talento punti talento come vi ho detto sono veramente tantissimi potete ruotare la visuale insomma sono tanti fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate qua sotto nei commenti alla prossima ragazzi e ciao ciao a